Pistola in pugno puntata, prima al petto, poi alla testa di un farmacista costretto a consegnare l'incasso, 250 euro. Sono le 20 di un sabato di marzo. L'emergenza coronavirus non scoraggia i delinquenti. Prese di mira, soprattutto le farmacie. Bersagli facili perché aperte, con disponibilità di contante, come in questo caso. Eccola, a Milano, zona niguarda, a colpire una sola persona, cappellino, giubbotto, ma soprattutto pistola. Lo avvertono delle telecamere funzionanti, ma lui non se ne cure, così una sequenza interminabile lo ritrae. All'esterno, quando tuona contro le vetrate, una prima volta va a vuoto, sono le 19.50. Indossa i guanti in lattice, va verso il secondo tentativo, riesce e dentro punta al suo bersaglio, ottiene i soldi e scappa. Il viso è ben riconoscibile dalle telecamere, ma sconosciuto alle forze dell'ordine, mai visto, incensurato. Sarà lui stesso a rendersi riconoscibile, consegnandosi direttamente alla polizia, ad arrestarlo il commissariato greco Turro. Si fa trovare, dove aveva detto, in via Cirie, complesso popolare di Niguarda, uno dei contesti più difficili di Milano, dove abusivi e pregiudicati sono una normalità. A deviare quel ragazzo, forse, proprio il contesto, lui, incensurato, una famiglia senza ombre, niente droghe, è finito a puntare un'arma contro una persona. Chissà per quale amicizia sbagliata, maturata forse, proprio tra le mura di un quartiere problematico.